L'Unione Europea non si limitasse semplicemente a eseguire gli ordini del meritatissimo premio Nobel per la pace Barack Obama, allora l'Unione Europea saprebbe che non ha alcun senso oggi forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella Nato, portando inevitabilmente avanti una crisi con la Federazione Russa nello stesso identico momento nel quale noi avremo bisogno della Federazione Russa per combattere, di arruolare la Federazione Russa per dilagare il fondamentalismo islamico. Semplicemente la nostra posizione è l'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. Abbiamo presentato una mozione, vedremo come voteranno i colleghi quando questa mozione arriverà in Parlamento, l'Italia si faccia piuttosto promotrice di una riposta politica alla crisi con la Federazione Russa e sulla crisi ucraina e speriamo che una volta tanto e concludo davvero si possa difendere i nostri interessi invece di fare i servi sciocchi di interessi altrui.